E' forse giunto il momento che anche dinanzi a un congresso di studiosi in Italia si tesoreggino i preziosi ammaestramenti della storia intorno alla dottrina dell'usura. Sta nelle tradizioni del sapere cristiano, signoreggianti nella gioventù della civiltà moderna, come furono detti i tempi di mezzo, sia nelle degenerazioni posteriori che prelusero alle odierne crisi sociali, allo scopo di formulare, contemperanza accoppiata ad un'illuminata franchezza, alcuni criteri direttivi che conservano di guida alle riforme pratiche sociali in questo culmine sbattuto dalle tempeste delle passioni e delle aberrazioni moderne che è il credito. La Chiesa, attraverso il lungo e coerente svolgimento dei suoi principi etici, dalla Bibbia e dal Vangelo ai Santi Padri, ai Dottori, al Giure Canonico, alle decisioni conciliari fino alle moderne encicliche pontifice, tutt'altro che restringersi pedantescamente, come ad altri piacco insinuare. All'affermazione aristotelica della sterilità della moneta, fu sempre sollecita di porre innanzi una serie di provvedimenti, altri proibitivi, altri ricostruttivi, ricostruttivi, tutti ispirati ad un'unità armonica di concetti morali e sociali. In primi, con azione negativa, divietò il mutuo feneratizio, infrenò le speculazioni mercantili, perseguitò ogni monopolio economico-sociale, specialmente quello delle masse monetarie. Ma viceversa, con azione positiva simultaneamente, concesse l'interesse dei mutui per titoli estrinsechi accidentali, in sospinse con società tacite, con quelle in accomandita, coi censi fondiari, l'alleanza diretta del capitale con l'industria. A tutte queste relazioni sociali o istituzioni riguardanti il credito, come il prestito pubblico o i monti di pietà, volle improntare il carattere della pubblica utilità sociale. Sorgeva di là quasi per incanto un ordinamento economico in cui governava l'uomo, col suo lavoro vero, autore unico della ricchezza. Il capitale adesso faciasi ministro e suddito, ottundendo fra i possessori gelosi del denaro, agli acri stimoli, alle subite dovizie strappate alla fortuna e all'estorsione, faciasi prelevare la legge della giustizia fra i singoli e della carità sociale fra tutti. L'edificio, laboriosamente eretto dalla sapiente e forte mano della chiesa, trovò si bensì ancora flagellato dall'onda delle cupidice, ma non fu scosso nelle sue basi né sopraffatto nel suo vertice eccelso. Oggi è assolutamente l'opposto. Dopo quattro secoli di dotta ribellione a quei principi di sapienza economica e civile, troviamo in mezzo a noi insediata e giganteggiante una economia di credito nella quale il prestito federatizio incarna tutti i rapporti economici. Il capitale, per mezzo di esso, spadroneggia ed asservisce sotto di sé l'uomo laborioso ed intreprendente. E la speculazione ed il monopolio minacciano e travolgono in pro di pochi oltrepotenti gli interessi universali. Così si comprende in tutta la sua grandezza il coppito che spetta ai cattolici quando la sua santità leone tredicesimo dell'enciclica Rerum Novarum li sospingeva a rivolgere le loro cure operose all'usura vorace che sotto novelle e mostruose forme si riproduce. E così si interpreta con pienezza di verità il sentimento istintivo delle popolazioni che fra tanti disinganni e sfaceli delle banche e delle borse rivolgono oggi silenziose e fidenti gli sguardi ai cattolici. Maestro e fedeli domandano infatti che ad una economia capitalista che ha la sua sintesi nel prestito del capitale all'imprenditore si sostituisca un'economia umana per eccellenza per cui all'uomo operoso venga seguace ed alleato il capitale. Ma il maestro supremo con la sua sapienza i popoli con le loro lunghe esperienze si agevolano anche la vita. Dito la grande massima di ogni riforma sociale che nulla deve distruggersi ma tutto ricondursi a sanità e perfezione. Trattasi null'altro che di risuscitare in tutta la sua interezza nel suo spirito l'antica tradizione del sapere cristiano intorno al credito e con la scorta delle recenti lezioni storiche fare un'applicazione discreta alle presenti condizioni dell'economia. Non è senza trepidanza che noi usiamo tradurre cui taluni criteri cui taluni criteri analoghi nelle seguenti forme concettose adatte alle sobrediscussioni di un'assemblea di studenti credenti. Queste competiranno partitamente i criteri riguardanti il credito nel suo concetto e nella sua funzione il credito nella sua disciplina giuridica il credito nelle sue condizioni concomitanti di efficacia. Ecco il nostro programma Noi siamo medievalisti Mi spiego Noi ci sentiamo profondamente lontani nemici anzi della cosiddetta cultura moderna così povera di contenuto così scintillante di false ricchezze tutte esteriori sia che essa si pavoneggi nelle prolusioni universitarie o che filantropica scenda nelle università popolari a spezzare agli umili il pane dalla scienza moderna. Essa è un aggregato meccanismo di parti non intimamente elaborato messa insieme senza connessione intima organica Essa è un mosaico costruito da un ragazzo normale che non ha senso dei colori e delle figure Ancora Noi abbiamo paura paura di questa cultura moderna non perché essa alza le sue armi contro la nostra fede ma perché strozza le anime con l'uccidere la spontaneità del pensiero Ancora Noi ci sentiamo infinitamente superiori a quelli che proclamano la grandezza della cultura moderna Questa è infeconda È incapace di creare un solo pensiero e dal posto del pensiero è retto a divinità l'erudizione del vocabolario e dell'enciclopedia Agostino Gemelli Manifesto del medievalismo Beatissimo padre Non è raro il caso che dai giovani universitari ai quali a motivo dell'ufficio affidatomi dedico le mie cure in vista di una loro formazione cristiana rispondente a un tempo alle perenni esigenze del messaggio cristiano e a quelle emergenti dalla concreta situazione storica nella quale la provvidenza ci ha chiamati a vivere ci vengano chiesti dei modelli Ora in questi ultimi mesi su sollecitazione della signora Luciana Frassati e grazie alla larga documentazione da lei fornita ho avuto la fortuna di poter restudiare in occasione del cinquantesimo anniversario della di lui morte la affascinante figura di Pier Giorgio Frassati e di sentire come essa potrebbe a giusta ragione e a pieno titolo essere presentata quale modello di singolare valore ai nostri giovani Con vero dolore e non senza meraviglia anche grazie alle informazioni assunte da padre Paolo Molinari della Compagnia di Gesù sempre pronto a continuare l'opera già cominciata ho dovuto constatare che il processo istituito presso la Sacra Congregazione dei Santi inspiegabilmente ristagna o addirittura è lasciato tacere Pensando al grande bene che Pier Giorgio potrebbe fare ai nostri giovani fra i quali anche oggi se ne trovano e non pochi di generosissimi incoraggiato dunque dal Comitato dei Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana deputato alla cura pastorale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore oso chiedere alla Santità vostra che voglia ancora una volta sollecitare la conclusione dell'iniziato processo romano per la beatificazione di Pier Giorgio il 6 luglio prossimo venturo a Pollone si celebrerà il cinquantenario della morte di Pier Giorgio sarebbe entusiasmante in quell'occasione potere annunciare almeno la ripresa del processo e rinnovare la speranza di sapere che Pier Giorgio potrà con singolare titolo guidare le nuove generazioni nel loro impegno di fedeltà a Cristo per il rinnovamento del mondo nella fiduciosa attesa che questo possa avvenire faccio pregare perché tra le gemme del pontificato della Santità vostra ancora questa possa iscriversi la proclamazione delle virtù eroiche di Pier Giorgio Frassati con la più filiale devozione vostro in Cristo Giuseppe Lazzati